Vieni a me, figlio mio non morto. Recati in fretta ai pilastri. Ormai tutto è pronto per il gran finale. Avrai la tua vendetta. Mortanius. Dunque, finalmente sei apparso in campo. Il legame deve essere davvero fragile. Ma scoprirai che è troppo tardi. Per cose troppo tardi stavolta? Oh, no, no, non ora. È troppo tardi per la vittoria che cerchi. Alla fine ti ho battuto. Mi hai scambiato per un altro. Sì? Hai dimenticato che mi insegnò le antiche profezie? E gli dice il vero. Sei giunto troppo tardi, ma non ha alcuna importanza. Con te o senza di te, noi preparremo. E così ho finalmente incontrato il male senza nome. Nel cuore del cerchio stesso. Che ironia. E giustizia poetica rovesciare dall'interno le fondamenta dei pilastri. Avremo la nostra vendetta. Il tutto è per sempre. Mi resta poca forza. Non bisogna romperlo. La tua specie non ama le sconfitte. Cerco il cuore delle tenebre. Ah, ora ti viene in mente. Ma come ti ho detto è troppo tardi. Il cuore è servito al suo scopo. L'ho usato per mettere in azione la profezia. Ho creato il campione annunciato dai miei padroni. Che per destino sarà il tuo distruttore. Il discendente dell'equilibrio salverà Nosgoth. I pilastri torneranno a essere protetti dai vampiri come previsto. E la tua razza sarà bandita per sempre. Kane. Hai usato il cuore delle tenebre per creare Kane. E come no. All'inizio mi rifiutavo di credere agli antichi miti. Pensavo che i vampiri fossero solo una piaga dell'umanità. Una pestilenza da controllare. E invece avevano ragione. E noi torniamo a rovesciarli. Mobius e io non capivamo cosa respingessero i pilastri. Io ho espiato. Continuerò a farlo fino alla fine e ormai vicina. Ma so che... Kane rimetterà tutto a posto. Ripristinerà l'equilibrio. Era ora. Il mio nemico è sempre più forte. Dov'è ora il cuore delle tenebre? L'hai distrutto. Ancora non capisci, vero? Non puoi usarlo finché Kane lo protegge con la sua vita. Kane ce l'ha. È dentro Kane. Scacco matto. Questa impresa redimerà prima me. E poi tutta Noscot. Deve... Deve... Sta diventando debole. Ma presto avremo un ospite più forte. Il momento a tanto atteso si avvicina. La nostra liberazione è imminente. Devo... Finiscilo ora.